I giocatori si aiutano più gli altri, una tua votazione? Ma voglio dire che questo si accadesse anche prima, sicuramente adesso come impeto, come volontà, come obiettivi condivisi insieme, diciamo così, c'è molto di più rispetto a prima. Ma no che prima non ci fosse, adesso c'è qualcosa in più che è quello che ti va a fare la differenza di questo senso e di giudicare. Buongiorno mister, io richiedevo, domani termina il dirone di andata e secondo la sua tabella di marcia, la Fiorentina rispetta i punti che ha attualmente in classifica senza guardare le altre che ha fatto meglio e che può che ha fatto peggio. Ancora vediamo molto, dipende molto da quello che riusciremo a fare, il risultato domani, però credo che alla fine di tutto i punti in classifica siano sempre più o meno meritati per tutti. E noi degli errori li abbiamo fatti, però abbiamo fatto anche delle cose positive, quindi una vittoria sicuramente potrebbe rivelarsi un dirone di andata soddisfacente, non certo, è ottimale, però sicuramente in termini di prestazione sicuramente sì. Mi specchierei la sua tabella? Grazie. Grazie.